Buonasera a tutti o buongiorno, dipende. Buonasera, mi chiamo Albino Tarrico, sono un giornalista con la passione dei motori e stasera era inevitabile che mi trovassi qui in questo carmesso organizzato da Rubettino, probabilmente per dare clamore al libro fatto dal nipote di Ignazio Giunti, che viene da Roma, Vittorio, alla presenza peraltro di due personaggi da me conosciuti, come Nino Vaccarella, il grande Nino Vaccarella, campione della Ferrari e dell'Alfa Romeo, e Carlo Bilotti, che è un pilota cosentino, entrambi li abbiamo visti correre nella loro vita. La mia presenza qui come amico di Nino Vaccarella e anche di Carlo Bilotti, anche se non ci siamo frequentati, per una semplice ragione. Trattandosi di Ignazio Giunti, stasera, del tema di Ignazio Giunti, parlando con l'addetto stampa di Rubettino, io sono intervenuto per riferire dell'iniziativa che in questo momento sta prendendo corpo a San Gineto, un progetto che stiamo portando avanti ormai da tre anni, per l'edificazione del monumento di Ignazio Giunti, siamo quasi in prossimità e quindi a breve daremo annuncio alla stampa e faremo l'inaugurazione con Nino Vaccarella e tutti gli altri personaggi come possono essere, non so, Nanni Galli se riusciamo a portarlo, Merzario, compagno di squadra di Ignazio a Buenos Aires. Quindi Nino Vaccarella per noi è un personaggio straordinario che quando si muove noi lo guardiamo davvero con grande ammirazione per le sue imprese. Se ricordiamo ha vinto la 24 ore delle Manze, ha vinto a Sebring, ha vinto a Monza, ha vinto al Nürburgring, poi ha vinto e dominando la targa Florio tre volte, ma l'avrebbe potuta vincere un altro mare di volte se non si fosse rotta la vettura. Niente, vi ringrazio per questo spazio e vi auguro buon lavoro. Niente, vi ringrazio per questo spazio e vi ringrazio per questo spazio,